Al Palafeudo trionfa il miseria e nobiltà nella gara interna della trentesima giornata di campionato tra Maddaloni e Caccia e Casavatore. I gialloblu soffrono e non poco le avanzate degli ospiti, decisi a non concedere punti ai casertani. Lanciato in quintetto Langella, che non deludirà mister D'Angelo, bloccato in tribuna dalla squalifica rimediata la settimana scorsa in casa della Traiconet. Pericolo numero uno è quindi Gigi Verdicchio, che già in avvio scalda il piede destro con qualche bel pallone ai compagni ed una conclusione pericolosa. Al decimo minuto, dopo un ottimo inizio del Casavatore, Verdicchio colpisce. Panna in rete 1-0 per i locali. Il match va avventate, da una parte le belle combinazioni dei padroni di casa che portano alla conclusione di Cataldo, Fusco e Dorologio. Poi dall'altra parte rispondono gli avversari con Bernardone e Mancini. La seconda frazione di gioco si apre con un'altra fiammata di Fusco. Poi la replica della Cace porta al pareggio. Massa approfitta di una disattenzione difensiva del Maddaloni e infila il destro dell'1-1. Non è finita qui. La doccia fredda è opera di Crisci, che è abile a liberare il tiro, ma altrettanto fortunato a trovare in divico un aiuto. L'errore del portierone giallo-blu è tanto raro quanto pesante. In pochi minuti di gioco il miseria e nobiltà è costretto ad inseguire. Passano due minuti ed è interrompere il blackout dei locali e l'angella, che si inventa il sinistro del 2-2 con un movimento da attaccante puro. Dopo la magia del numero 5 c'è una fase di stallo, in cui il Casavatore cerca di reagire, gestendo il possesso nella metà campo maddalonese, ma non concretizza nulla di pericoloso. Oltre al palo di Bernardone, infatti, non si registrano occasioni clamorose da nessuna delle due parti, ma la svolta decisiva arriva nel recupero. Rivetti, volenteroso e propositivo nel corso della partita, trova in profondità d'orologio, che si gira e vede la corrente verdicchio. Il suo destro magico si infila nell'angolino, per la gioia di tutti i tifosi. Il numero 10 nel giorno della festa del papà regala tre punti al suo di padre, nonché presidente, padron verdicchio, e conduce i compagni ad un successo che fa sorridere Maddaloni per l'enesima volta in questa stagione. Ancora una vittoria, ancora spettacolo al palafeudo, per un miseria e nobiltà che l'anno prossimo promette fuochi d'artificio.